Campionato nuovo, vecchia Juventus, l'araba fenice capace di risorgere dalle ceneri di una sconfitta frutto di una superiorità che rischia di diventare autolesionismo. Contro il Chievo infatti la signora si specchia troppo nella sua bellezza, concede, regala, dilapida, poi però al tramonto del match torna cattiva, spietata e vincente, lasciando agli avversari, come sempre, soltanto l'illusione dell'impresa. Da poco Ferragosto è evaporato sotto l'ombrellone, gli ozzi dell'estate quindi pesano ancora sulla concentrazione, ma intanto i primi tre punti della corsa tricolore sono in cassaforte. A Verona si sono già visti vagiti di spettacolo, griffati, soprattutto CR7. Tocchi di classe, lampi di genio, anche se per ora la classifica a marcatori della Serie A non comprende il nome di Cristiano Ronaldo, intesa con i nuovi colleghi da perfezionare, posizione in campo da elaborare perché la clessidra ha appena iniziato il suo scarico, ad Allegri il compito di studiare il teorema. Ma anche modulo da mettere a fuoco. Il 4-2-4 di Verona infatti ha mostrato troppe crepe, con Cancelo e Alexandro più aliche e terzini. Questione di equilibri da calibrare perché gli scudetti si vincono con la miglior difesa. Test di riparazione sabato prossimo con la Lazio, forse con tre centrocampisti. I gol non vanno presi perché come dico sempre il campionato italiano si vince con la miglior difesa. Per oggi era giusto prendere, ci ha fatto bene perché ci serviva una vittoria così e non una vittoria facile. Benino, il figlio al prodigo Bonucci, colpevole però sulla rete di Stepinski e fischiato nei primi 5 minuti. Calligrafico in cabina di regia Pjanic, in ritardo di Bale Quadrado, ancora con poco sprint nel motore Douglas Costa. Pescate azzeccate dalla panchina Mangiukic, Emre Can e soprattutto Bernardeschi. Renato Cesarini del terzo millennio, ricchezza di una rosa invidiabile. Spetterà dunque ad Allegri, da esperto broker della panchina, gestire questo vasto patrimonio da investire nei fondi campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League.